I follow, I follow you deep sea baby, I follow you, I follow you, I follow you, don't command it, I follow you. Mister Incitti, un'altra grande vittoria della Scafatese oggi contro un Santomaso che ha dimostrato di meritare la quinta posizione in classifica. Oggi mancava Capitano Anteta, però la tua squadra ha sfruttato splendidamente le occasioni avute, ha controllato il match, è stata una bellissima prestazione da parte di tuoi? Sì, sapevamo di affrontare una buona squadra, eravamo pronti al fatto che doveva essere una battaglia fino alla fine, i ragazzi l'hanno messa sul punto, diciamo pronti via, aver fatto gol ci ha dato una mano per poi portarla in porto. Poi con qualche cambio, con la voglia di qualcuno che non giocava da tanto siamo riusciti a chiuderla e peccato per il 2-0 di aver subito subito quel gol, però i ragazzi erano talmente carichi perché volevano portare questa partita a casa. Oggi hai dovuto cambiare qualcosa, è uno scacchiere tattico, mancava Teta, hai fatto salire De Bellis sulla linea dei centrocampisti, hai dato spazio ovviamente, hai cercato di sfruttare gli esterni Balsamo e Ferrentino perché la sua proprietà numerica nella fase offensiva, Romano ha lottato come un leone, poi hai cambiato completamente i tre punti di riferimento offensivi nel secondo tempo. Insomma però questa scafatese dimostra di avere sempre soluzioni efficaci quando ne hai bisogno. Sì, ho dei ragazzi che possono giocare in vari modi, soprattutto nel fatto che hanno molta voglia, hanno la voglia di far bene, di dare tutto, perciò per questo non mi preoccupo nemmeno. Ogni partita cercheremo di sfruttare quelli là che stanno meglio e cercheremo di dare il massimo come sempre. Ecco mister, che indicazioni stai avendo sempre andando avanti? Un pizzico di fortuna mi sta anche aiutando, vedi la settimana scorsa quando è arrivata quella vittoria negli ultimi minuti, bellissima con il gol di Teta e con il gol di Pepe. Però a questo punto con una scafatese che è immune da sconfitte, lì seconda in classifica alle spalle del Gragnano, davvero questa consapevolezza dei mezzi a disposizione fa venire anche un po' di appetito per restare lì e giocarsela fino in fondo? No, noi stiamo vivendo giorno per giorno, con i miei ragazzi la cosa che diciamo sempre è sempre quella di non aver giocato nessuna partita, ogni partita per noi è una finale da vincere perché vincendo questa finale abbiamo vinto qualcosa di importante, la viviamo così e i ragazzi hanno capito questo. Poi per quanto riguarda la fortuna è vero, però credo che la fortuna in 21 partite tra Coppa e Campionato non aver perso mai è giusto che chiamiamo fortuna, però i ragazzi lottano fino alla fine e quando uno lotta fino alla fine credo che ottiene quasi sempre quello che vuole. Presidente Cesarano, a questo punto la Scafatese è una o può essere una delle pretendenti addirittura alla vittoria finale, non bisogna sbilanciarsi, però il campionato sta dicendo dopo 14 giornate, nessuna sconfitta, si riescono a vincere le partite con determinazione e con cuore, anche quando mancano parecchi giocatori, le soddisfazioni stanno arrivando. La Scafatese è un gruppo, è un gruppo di ragazzi che si danno una mano l'uno con l'altro e quest'anno questa è la caratteristica di questa squadra, se poi si ha una pretendente al titolo, questo lo dobbiamo vedere più avanti, è ancora presto, siamo ancora nel girone d'andata, sicuramente oggi la Scafatese è seconda in classifica, ha 4 punti alla Gragnano, basta, semplice. L'anno scorso hai detto, io spero che l'anno prossimo riusciamo a fare un punto in più di quello che siamo riusciti a fare, però davvero le soddisfazioni stanno arrivando anche quando viene a mancare qualche pedina importante, vedi oggi l'assenza di Capitan Teta, come hai detto tu è importante il gruppo ma è soprattutto importante il lavoro che sta facendo la squadra anche quando cambia modulo tattico, risponde sempre presente. Spesso a volte parlo con i tifosi o parlo con la critico, con i giornali e quando allora a me mi dicono Presidente arriveranno dei ritocchi a Natale, non arriveranno, io dico sempre sicuramente la società si muoverà se c'è qualcosa da fare, però sicuramente la squadra è stata fatta a luglio e i risultati che stiamo avendo penso che in luglio ci ha dato ragione, siamo ai quarti di finale di Coppa, giochiamo un calcio magari piacevole, siamo secondi in classifica. Il punto in più dell'anno scorso era l'obiettivo primario, poi magari sicuramente può venire qualcosa in più, ma questo è sempre per dimostrare che la Scafatese Calcio è una società, a parte una squadra, che si muove. Non dimentichiamo il settore giovanile, allievi, mini allievi, juniores, non dimentichiamo la scuola calcio che fa ancora bebi, pulcini, esordienti, quindi è un movimento. Adesso il risultato che oggi uno vede in mezzo al campo sicuramente è supportato da tutto ciò che gira dietro le quinte, questo è importante, abbiamo un ambulatorio medico nostro qui allo stadio per curare i ragazzi, abbiamo un'organizzazione con un magazziniere, con un direttore, con un addetto stampa, c'è una società che si muove ragazzi e l'importante è questo, la società che si muove, perché secondo me avere dei risultati, senza un progetto, arrivare anche in serie C, B, A, si torna indietro ragazzi, non c'è via di scampo. Se invece tu parti con un progetto e parti da una terza categoria dopo quattro anni ti puoi trovare a lottare per l'interregionale come oggi. Guadagno, ci sono dietro le quinte Mister Incitti e Teta che ti guardano, perché ovviamente si scherza anche con te, però a parte gli scherzi ci tenevi tantissimo a tornare con un gol, ti abbiamo visto dedicarlo non solo a tutta la squadra, c'è stato l'abbraccio di tutti i compagni di squadra, il presidente, è stato un gol liberatorio, davvero una grande soddisfazione. Sì, sono molto contento, prima di cosa per la mia squadra, per Incitti, per Teta, per il presidente e per tutti quanti, perché mi hanno coltato davvero bene. Sono contento per il gol, perché l'ho voluto già ieri, quando sono tornato a fare l'allenamento, ho parlato con la Giovanna e ho fatto gol e sono contento. Però sai che hai battuto il rigore perché Teta era fuori, altrimenti non te l'avrebbe mai concesso. Ma Teta, lo sappiamo, quando batte lui, fa sempre gol. Io ho il 99% che sbaglio, lui è 1%, è meglio così. Comunque, grande soddisfazione, Mister Incitti ha cambiato i tre punti di riferimento in avanti, state dimostrando che siete un grandissimo gruppo. Ma per Incitti è facile avere guadagno, Teta e Magini sulla panchina, che si gira e dice guadagno, entro e faccio gol, Magini entra e fai gol, allora è più facile per lui, no? Scherzo. Comunque va bene così, una grande scafatese in questo inizio di stagione. Sì, sì, soprattutto una bella scafatese, un gran gruppo, un gran presidente, tutti i dirigenti, tutti i direttori, tutti quanti e sono veramente contento. De Bellis, un bellissimo gol dopo cinque minuti, in una posizione che poi non era la tua, solitamente dovresti essere nella linea difensiva, però oggi Mister Incitti ti ha promosso a centrocampo vista l'assenza di Capitan Teta. Appena hai avuto la chance per calciare in porta, non te la sei fatta sfuggire? No, no, è stata una bella partita, alla fine abbiamo cercato di portare questi tre punti a casa, perché erano fondamentali. E niente, ho avuto questa palla al limite dell'aria, ho calciato senza pensarci, è andata dentro, è andata bene. Era un gol dedicato al capitano, perché mi ha detto dedichi questo gol e io l'ho dedicato con tutto il cuore. Senti, la dimostrazione è che siete giocatori intercambiabili, possiamo dire così, molto duttili, siete capaci di giocare in qualsiasi zona del campo. Ecco, tu sei stato oggi schierato a centrocampo, hai risposto presente, hai fatto una grande partita. Sì, io do sempre il massimo. Quando il Mister mi chiama in causa, cerco di metterci alla tutta, in qualsiasi ruolo, sono sempre pronto. E questo per me è importante, il Mister lo sa, mi trova sempre pronto. Qualsiasi cosa, qualsiasi ruolo, lo so fare. Quindi ci provo e do il massimo. Questa Scafatese che conserva il secondo posto, conserva l'imbattibilità, ma quanto ci state credendo in questo avvio di stagione? Quanto si è forgiato questo gruppo? No, siamo un bel gruppo, ci sta crescendo sempre di più, siamo amici, siamo sempre insieme, ci aiutiamo l'uno con l'altro, infatti si vede in campo, non ci richiamiamo, ci aiutiamo, sta andando bene e continuiamo così, sperando di toglierci parecchie soddisfazioni. Grazie a tutti.